Grave oggi, molto grave, mi fa molto incazzare perché sono andato a pubblicare un video su Pandino Club che è il canale madre, quello da 180 iscritti e mi ha detto che praticamente non posso, non posso in alcun modo pubblicare perché ho ricevuto troppi avvertimenti, non capisco perché io avevo già ricevuto due avvertimenti e quindi adesso provvederò, mi sa la rimozione dei video, ma l'email non mi accede, non so, ho avuto dei problemi con la password, niente, poi anche col numero di telefono io non mi ricordo se avevo lasciato il numero, l'email per il riconoscimento, e quindi è un casino, non riesco nemmeno a accedere, adesso tramite mobile ce l'avevo l'account e l'altro cellulare, però non riesco a vedere le segnalazioni, ho scorrezzato, non riesco a vedere le oscurizze, non riesco a vedere le segnalazioni, hai capito, ho scorrezzato, non riesco a vedere le segnalazioni, quindi non so come cazzo, non so che cazzo è successo, sono al buio di tutto, so solo che non posso pubblicare su Pandino Club, volevo mettere il video della pizza, troppe segnalazioni mi è venuto fuori, non capisco, adesso c'è una scritta blu, dopo provo a cliccare lì sopra,